Cari amici garganici, eccoci qua nel terrazzino come tutti voi, io come voi, voi come me, ce ne stiamo a casetta, annaffiamo le piante, pensiamo al futuro, abbiamo fatto delle cose belle insieme, abbiamo fatto un grande Gargano Media Festival, sono stati con noi dei grandi personaggi che io sento e che stanno tutti a casa, è quello che dobbiamo fare in questo momento, ce lo dicono in tutti i modi, diciamocelo, auguriamoci di vederci presto. Speriamo in settembre, insomma, a settembre tutta sta cosa l'avremo superata, saremo stati bravi? Dipende da noi, se saremo bravi ci vedremo e faremo ancora cose all'insegna della comunicazione, noi abbiamo fatto insieme il Gargano Media Festival, si parlava di comunicazione, ecco, torneremo a comunicare vedendoci, magari restando ancora a debita distanza, però vedendosi e parlando tra di noi e non soltanto dai nostri balconi, che è una bellissima cosa, però prima o poi, insomma, torniamo a vederci di persona. Ciao!